Prova a vedere che c'è un sacco lì, credi che cominciamo già, è meglio prepararsi. Adesso è il mio spaviente, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere. Non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere. Non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere. Non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere. Non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere. Non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere. Non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere, non lo faccio a vedere. Non lo faccio a vedere, 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 non lo faccio a vedere. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti